Onorevole Bellucci, perché siete qui oggi? Fratelli d'Italia scende in piazza insieme alla Federazione Romana per urlare rispetto alla vergogna dei pochi spiccioli destinati a Roma Capitale. L'indifferenza del Premier Draghi, che ha pensato di destinare così poche economie a quella che è la Capitale d'Italia, a differenza di ciò che viene destinato a capitali europei come Berlino, come Parigi, ma anche fuori dall'Europa, come Londra, che ricevono miliardi, la nostra capitale ha pochi spiccioli. E questa è anche la colpa dell'incompetenza della Sindaca Raggi, una sindaca che ha proposto dei progetti vergognosi e che quindi sono stati ripagati con la stessa moneta, cioè con quattro spiccioli. E allora Fratelli d'Italia non ci sta, la Capitale d'Italia deve essere rilanciata, deve avere le giuste risorse, noi da anni chiediamo anche i giusti poteri e non smetteremo di dire che la nostra Roma, la nostra capitale, deve essere amata e dobbiamo esserne tutti orgogliosi e destinare maggiori risorse e maggiori poteri. Fratelli d'Italia c'è e continuerà a dirlo forte e chiaro.